John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ma che, ma che cazzo è, ma che cos'è ragazzi la Serie A, ma che cos'è quest'anno la Serie A Il Napoli che avrebbe dovuto tranquillamente battere la Samp da pronostico in casa, si fa un culo così per vincere L'Inter perde a Reggio Emilia ragazzi, il Benevento perde ancora all'ultimo, secondora ne parliamo, ma una giornata veramente della madonna Partiamo appunto dal Napoli, complimenti al Napoli, partita veramente della madonna Io penso che non ci poteva essere niente di più bello della partita che abbiamo visto a Napoli Ovviamente lo dico, da romanista speravo perdeste, o comunque speravo pareggiaste perlomeno Però ragazzi, partita veramente della madonna, va avanti la Samp dopo un secondo, la riprende il Napoli Se non sbaglio va 2-1 la Samp con rigore di Guagliarella, poi la pareggia il Napoli Poi con un gol fra l'altro della madonna di Insigne Poi va avanti ancora una volta il Napoli con Amsic che supera se non sbaglio Maradona con questo gol Poi fra l'altro si fa buttare fuori Mario Rui, poi viene ammonito Viviano, proteste perché Viviano la prende con le mani E quindi probabilmente non si è capito niente Però ragazzi veramente una partita della madonna con la Samp che poi nel finale prova ad attaccare Mertens, io voglio sapere una cosa, ma Mertens, Napoletani, ma che ha fatto? Cioè, non a livello prolifico nel senso che non segna più come una volta Ma anche Ogeco segna più come una volta Però sembra proprio che abbia voglia, non lo so, non c'è più con la testa Cioè anche oggi 3 o 4 volte poi è fortissimo, cioè ci mancherebbe altro Un Mertens che gioca così e così, gioca bene Perché Mertens non gioca benissimo, l'abbiamo visto l'anno scorso, ha fatto il devasto Però sembra, tipo non lo so, che se senta superiore a tutti Se incaponisce, deve per forza buttare giù la porta Tirare da qualunque posizione gli capiti Pure nel finale c'aveva la possibilità di chiudere la partita Tira il match point, se lo caga Poi gli ripara il pallone sulle gambe, fortunatamente Può metterla al centro a porta vuoto e invece ritira da posizione Ma metterla in mezzo sta palla Cioè, tanto al Napoli segnano tutti Comunque, mamma mia che partita La Sampdoria che ne fa due a Reina, ragazzi Complimenti, complimenti Ho visto anche la cosa bella della partita Quagliarella che comunque segna, non esulta Fra l'altro i tifosi del Napoli fischiano solo per la paura del rigore Dopo il rigore, zitti Non hanno fischiato né niente Quando è uscito, ovazione dello stadio con gli applausi Bellissimo, ragazzi Il Napoli vince, Juventus e Roma dovranno rispondere sul campo Chi non vince è l'Inter Purtroppo, ragazzi, settimana scorsa Mi sono trovato a contatto con troppi interisti Che mi insultavano a caso Perché nel video contro l'Udinese Nel video di Inter-Udinese Ho detto l'Inter è crollata In questa partita Ma non è che ho detto è crollata Nel senso non farà più niente Farà schife, bla 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 Parlavo di crollata Perché crollata nella partita contro l'Udinese Oggi l'Inter fa, diciamo, male nel senso che perde Però, parlandoci chiaro Tra me e te, sinceramente, ci prova parecchio Gioca parecchio in avanti Molto, molto, molto poco concludente Diciamo così Non riesce mai a trovare il guizzo giusto Più che altro va detto Ragazzi, io non lo so perché ho visto diretta.it Quindi ci sta Sì, diretta.it Senti che ho detto Ho visto diretta gol Ho fatto pure pubblicità Diretta punto it gratis Pagami No, a parte scherzi Ho visto diretta gol Quindi magari non lo so Però mi è pazzo Che il Sassuolo Non volesse mai perdere tempo Questo mi piace Cioè, poi, sicuro che l'ha perso Non lo so questo Però ho visto addirittura Che Magnanelli S'era messo i pantaloncini E i calzettoni In modo che non gli venissero i crampi Per giocare fino alla fine E non cadere mai Questo mi è piaciuto L'Inter ci provava Cercava di buttare giù la porta Però difficilmente la palla Gli entrava Questo è il secondo KO di fila per l'Inter Che ora inizia a perdere terreno Perché dopo aver perso in casa Altruudinese Va a perdere anche a Reggio Emilia Contro il Sassuolo Però attenzione Perché questa è la terza vittoria Di fila Per il Per il Sassuolo Ragazzi Tra l'altro l'Inter Si divora un calcio di rigore Con Icardi Mamma mia Non me lo sarei mai aspettato Ma aspettavo che invece Quagliarella lo sbagliasse Invece Icardi a sbagliarlo E Icardi si divora un calcio di rigore Forse mancava un rigore Forse Per il Sassuolo Lì su Cancelo Che a proposito ragazzi Ma Cancelo a voi vi piace? Perché io non riesco a capire Cioè per me ha fatto più errori Che potesse fare Cioè ogni Ogni palle c'aveva un errore Però poi partiva con queste Sgaloppate sulla fascia De corse De felicità Che praticamente Di ripelava tutti Però scivolava Cascava per terra Sbagliava Sbagliava i passaggi Sbagliava i cross Sbagliava praticamente tutto Boh Cancelo mi ha fatto schifo oggi Dica la verità Cancelo ragazzi Per me è stato da 4 e mezzo Poi se ho visto male io E che per voi insomma Le partite si interpretano Però non mi è piaciuto affatto Che devo dire Lazio già ne ho parlato Oh ragazzi Voglio dire una cosa L'Udinese Perché molti poi non lo notano Perché lo notate solamente Delle squadre Quelle là che fanno Che diciamo Quando poi l'Udinese arriverà Verso la zona Europa Diranno Oh ma questo Udinese Questo ragazzi Se non sbaglio Quarta vittoria di fila Per l'Udinese Fra l'altro ha vinto Mi pare la prima 3 a 0 La seconda 2 a 0 Poi ha vinto 1 a 3 A Milano con l'Inter E oggi un'altra volta 4 a 0 Cioè l'Udinese In 4 partite Ha fatto 12 punti E se non sbaglio Ha fatto una cosa Come tipo Mi pare 9 gol fatti No si 9 13 gol fatti E 1 subito Una cosa del genere Comunque l'Udinese Ragazzi sta facendo benissimo Attenzione Quarta vittoria di fila Da quando c'è Oddo Sulla panchia dell'Udinese L'Udinese vola Che vi dovevo dire Neanche oggi il Benevento Fa il punto Che Fa un punto Rimane a un punto Ragazzi il Benevento Però c'è Te lo cerchi Ma come si fa Lì ragazzi Era calcio di rigore Su fallo di Belez Tutta la vita Tutta la vita Così si imparano a non mettere Brignoli No però a parte scherzi No a parte Belez è più forte Però c'è Brignoli Ti ha regalato il primo punto Da quel momento Non gli hanno più fatto vedere il campo Io capisco che magari Belez sia più forte Non è che ora Perché ha fatto quello Deve giocare sempre Però io penso che Quanto meno Se si è guadagnato La possibilità di rigiocare Nel Benevento Quindi tu gli fai fare Go decisivo Contro il Milan A un portiere Che fra l'altro Insomma non sarà nemmeno comportato Troppo male contro il Milan E poi lo fai sparire Non l'ho capito Sinceramente sta cosa Ragazzi Ora con tutto il cuore Non l'ho proprio capita Comunque niente Quindi il Napoli vince E rimane su L'Inter perde E quindi si guarda un pochino sotto Ma stasera comunque La Roma andrà a Torino Contro la Juventus E quindi una delle due Perderà punti Se non tutte e due Poi staremo a vedere Il Napoli allunga Quindi allunga Sulla seconda E sulla terza E sulla quarta E su tutte le altre La Lazio accorcia In zona Champions E sicuramente ruperà Due punti A qualcuno Nelle prime quattro Niente Lazio Stasera è veramente Molto molto bella Voglio guardare un secondo La classifica al volo Vediamo se me la danno A giornata Classifica 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 Eccola qua ragazzi In zona retrocessione Al di là del Benevento Che c'è un solo cazzo Di punto C'è Verona penultimo A 13 Spal Crotone A 15 Cagliari A 17 Genoa A 17 Ragazzi Quindi zona salvezza Molto molto stretta Fra l'altro poi c'è anche Il Sassuolo A 20 E il Chievo A 21 Quindi non è che ne passi Così tanto Passano 6 punti Ci stanno 1 2 3 4 5 6 7 squadre E due di queste Andranno giù ragazzi Quindi anche la zona salvezza È molto molto aperta Per non parlare del settimo posto Che se La squadra che va in Coppa Italia Se la squadra che vince la Coppa Italia Arriva tra le prime 6 La settima Va in In Europa League Ma anche per il sesto posto Ragazzi Il sesto posto Ci sta la Sampdoria Con 27 punti E poi c'è Samp 27 Fiorentina 26 Udinese 24 Atalanta 24 Milan 24 Se siete ancora a giocare Torino 24 Bologna 24 È bellissimo Fatemi sapere Adesso vi saluto Come sempre Ma che cazzo succede? Fatemi sapere come sempre Con un commento qui sotto Che cosa ne pensate Io vi ringrazio Per la visione Se vi è piaciuto Vi lasciate un mi piace In caso contrate un dislike Mi raccomando ragazzi Ci sono rimasti pochi posti Quindi se volete Io ve lo vado a rileggere Anche adesso Già che ci stiamo Se volete A me fa molto molto piacere Oggi stasera Io alle 20.45 Commenterò Juventus Roma Con tutti voi Con chi vuole venire Il ristorante è Via Scalo Di San Lorenzo Potete venire Prenotando al numero Adesso ve lo vado a leggere Al numero 0644 360 7 7 3 Gli ultimi posti ragazzi Stato per finire Quindi affrettatevi Per prenotare A me non può far che piacere Via Scalo Di San Lorenzo 99A Al The Random Ore 18.30 Inizia il concerto Però stasera C'è la Roma E quindi potete venire Anche dopo Vi ringrazio Come sempre Per la visione Se volete comprare Se volete comprare Le mie magliette Eccole qua Venite all'evento Guardate quanto sono belle Sono più belle Di me Non è che ci vuole tanto Muschela All'alene come sempre Ci vediamo Ad un prossimo video All'alene come sempre All'alene come sempre All'alene come sempre All'alene come sempre All'alene come sempre